Si può sapere chi era? Fede, calmati! Calmati un cavolo! Ma tornerà? Ci puoi scommettere? Credimi, se c'è un essere in grado di cessare l'esistenza delle nostre due realtà, è proprio lui. Si chiama Lord Lightning, ed è meglio che non sappiate mai cosa si nasconde dietro la sua maschera. Dopo tanti anni, ecco che si ripresenta, più assetato che mai. E vabbè, uno non può neanche farci una vacanza che... Tutto ciò che conosci è alla fine.